Eccoci qui allo stand FNM, siamo al Nautic Sud e ho accanto a me il signor Nigri, direttore vendite di FNM. Signor Nigri, benvenuto su Monobarca Market. Grazie mille, per noi è un onore, anzi penso sia la prima volta che ci incontriamo qui. Esatto, ci fa piacere. Noi come ogni anno siamo presenti al Salone Nautico, anche quest'anno, anzi quest'anno è un'occasione molto particolare in quanto festeggiamo il primo anno di connubio insieme alla AS Labruna che è il nostro distributore in esclusiva di tutti i motori FNM. Siamo molto contenti, noi siamo un'azienda abbastanza giovane sul mercato ma molto dinamica. Ricordiamo che noi marinizziamo tutti i motori su base Fiat. Quest'anno ci presentiamo a Napoli con una novità in assoluto, il librido. L'ibido è stato accoppiato al nuovo motore 6 cilindri che darà sicuramente una grandissima visibilità in quanto le aree marine si stanno rafforzando in Italia e quindi ci sarà sempre più richiesta di questo prodotto. Ripeto, siamo contenti, ogni anno sicuramente presenteremo anche altri prodotti. Che dire più? Lascio la parola a Massimo Labruna che vi spiegherà poi meglio come siamo coordinati sul territorio. Perfetto, quindi festeggiamo questo anniversario, signor Labruna. Sì, un anno. Siamo partiti proprio l'anno scorso al Nautic Sud anche con un'intervista proprio con Mondobarca. Quest'anno noi presentiamo tre grandi novità. Dal punto di vista motoristico abbiamo il nuovo 42.4002 di cilindrata che è un 6 cilindri con morel da 350 cavalli RC di 2. In più abbiamo portato il nostro modello, il 30 HPE, da 270 cavalli. Quindi adesso si posiziona in un segmento di gamma molto importante. In più, da quest'anno abbiamo equipaggiato, e guardate, tutta la nostra gamma con i moduli ibridi del Blue Hybrid System che è un prodotto interamente progettato e realizzato negli stabilimenti di Atella e qui abbiamo l'ingegnere Riantorno che è il progettista. Benissimo, quindi passiamo alla parola. Sì, Riantorno, ci spieghi un po' come funziona questo Blue Hybrid System e come mai è un motore rivoluzionario. Sì, è un kit che consente di navigare in elettrico in abbinata a un motore endotermico. Quindi con un modulo di un motore elettrico, le batterie, un sistema elettronico di controllo sempre da noi sviluppato possiamo andare a bassa velocità in elettrico tenendo spento il motore endotermico e quindi utilizzando la stessa trasmissione, qua è una delle varie qualità e caratteristiche del nostro sistema mantenendo la stessa architettura del motore elettrico, quindi stessa trasmissione e allungando l'ingombro di 23 cm, quindi è molto compagno. Diciamo di fatto può entrare in qualsiasi sala macchina? Può entrare in quasi qualsiasi sala macchina, ovviamente la ricerca del nostro reparto sta facendo ridurre sempre di più gli ingombri e aumentare un po' le potenze un po' come il trend in tutti i motori. Oltre alla novità del prodotto, la caratteristica del prodotto è che quando poi si naviga in endotermico si possono ricaricare le batterie e quindi avere un'autonomia estesa per rientrare... Possiamo paragonarlo anche al settore automotive, quindi in cui nelle auto... È simile, non c'è la frenata rigenerativa a mare, questo lo sappiamo tutti del settore però quando si va in endotermico ricarico le batterie e quindi ho un'autonomia ancora più lunga. Abbiamo definito una dimensione delle batterie 13 kilowatt per dare qualche numero invece il motore elettrico è 20 kilowatt ma andando piano non si usano i 20 kilowatt le energie in gioco sono molto più basse, bastano dai 5 agli 8 kilowatt per andare abbondantemente a treno di una barca di 12 metri Un classico di dislocamento, quindi l'autonomia è molto maggiore delle due ore Benissimo, quindi di fatto possiamo dire che il kit può essere installato su qualsiasi tipo di trasmissione e qualsiasi tipo di motore? Sì, è stato concepito proprio con questo fine, come vedete noi l'abbiamo presentato su tutta la gamma quindi è installabile su diverse tipologie di motore e diverse tipologie di trasmissione invertitore, piede poppiero, jet drive, sail drive, sarebbe molto interessante quel settore in elettrico insomma, quindi è un kit che può essere installato in verità su qualsiasi tipo di motore La taglia, come mi stava chiedendo prima, al momento è 20 kilowatt il motore elettrico però stiamo progettando su una versione più piccolina, anche un po' più economica e una versione invece molto più potente per barche e motorizzazioni più potenti di conseguenza Perfetto, quindi cari amici per ora noi abbiamo concluso qui allo stand di FNM le prossime novità le troverete sul nostro portale tutti gli aggiornamenti anche al Nautic Sud, ci saranno continue interviste e tutte le novità dal salone quindi continuate a seguirci sulla nostra pagina e anche sul canale YouTube Io ringrazio lo staff FNM per essere stato qui con noi e ci vediamo alle prossime interviste sempre su Mondobarca Market Grazie, grazie mille